Sicuramente non è una situazione piacevole, questo è chiaro, credo che in questo momento la persona che forse ci rimette di più è il ragazzo perché certamente non presentandosi così non fa la figura del professionista di livello, quello che è, probabilmente sta vivendo una situazione difficile da gestire, non la sta gestendo bene e la cosa ovviamente ci dispiace come ho detto in primis per lui, per un ragazzo di 19 anni che ha una carriera importante davanti e che in questo momento ha sicuramente fatto un errore. Spero, perché voglio comunque assolutamente vivere le cose in buona fede e serenità, che ci sia la possibilità di ravvedersi e di ricucire la cosa ed eventualmente di vederne i giorni prossimi come evolve la situazione. È chiaro che nessuno ha interesse a fare polemiche, a stressare le situazioni, quindi cerchiamo giusto di verificare bene come stanno le cose, cosa ha intenzione di fare, lui e il suo entourage e poi prenderemo le conseguenze. Stiamo all'inizio di un mercato che dura ancora due mesi, un ragazzo che ha avuto delle richieste di informazioni da alcuni club, offerta ne abbiamo avuta una, quella che sapete del Valencia che è stata di un valore decisamente inferiore, ma non a quello che chiediamo noi, ma a quello che è il valore del calciatore in questo momento e il suo entourage questo lo sa e perciò non è in discussione. Ci sono degli interessamenti concreti di altri club con i quali stiamo parlando e che si possono sviluppare, come no, ma sinceramente trovo un po' strano che ogni volta che una squadra chiede informazioni su Diaverano scoppia un caso mediatico. Hanno chiesto tante informazioni di tanti nostri calciatori e nessuno ha mai fatto particolari proclami. Io vedo che se la Juve riceve richieste di informazioni su Pogba, si siedono e parlano e poi decidono, non vedo perché con la massima serenità e la stessa tranquillità non lo possiamo fare noi a Bologna per Diaverà. Come abbiamo detto prima, vediamo come va avanti la situazione, se sarà riportabile su binari di civile professionalità bene, se no si agirà in maniera diversa perché siamo un'azienda, siamo al lavoro, lui è un professionista e quindi come tale deve agire.